Buonasera, mi chiamo Martina, ho 17 anni e vengo dalla Polonia, paro via Ortona. Sono contenta per questa vittoria e spero di continuare questo viaggio da modella, però se non dovrebbe riuscire vorrei provare a fare la hostess di volo. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma soprattutto la mia famiglia che mi sostiene. Studio ragioneria turistica e questo anno dovrò fare la maturità e spero che andrà tutto bene.